Siamo in un luogo simbolo del design milanese, siamo alla Triennale e all'interno della mostra La fabbrica dei sogni incontriamo Massimo Ottoni. Anche tu, allora, fabbrica dei sogni, giovane imprenditore, come nasce questa tua avventura? Quindi come hai questa tua passione per il design e hai saputo coniugarla con l'attività professionale? Io ho fin da bambino che ho una passione, un amore per il design che poi mano a mano che sono cresciuto ho sempre sviluppato e questa passione mi è cresciuta sempre di più dentro fino al punto di provare a dare una mia personale interpretazione di quello che credo che debba essere il design oggi, cioè ogni oggetto di design secondo me è un oggetto che debba racchiudere in sé una praticità, una funzionalità, oltre che alla bellezza e anche a quel pizzico di, diciamo, follia, deve avere quel qualcosa che lo differenzi rispetto ad altri oggetti e poi a livello imprenditoriale comunque devono essere sempre oggetti vendibili. Mast è nato in un periodo storico come quello della crisi economica, quindi abbiamo approfittato di questa situazione temporale dove c'era un mercato che appunto necessitava di un cambiamento, di un qualcosa di nuovo. Da qui l'idea di portare un materiale come quello che è la fibra di carbonio, che è un materiale di derivazione aerospaziale usato per l'industria automotive ad alte prestazioni e nel settore nautico, di portarla nel mobile.